Rientra tra le priorità principali dell'amministrazione comunale ed è uno degli obiettivi programmatici dei DEM che stanno con il sindaco Di Stefano. Il piano del demagno marittimo è stato ancora una volta al centro di approfondimenti. È stata individuata la strada per assicurare una sorta di estensione dell'incarico al professionista che già si occupava di questo capitolo assai tortuoso. C'è la copertura finanziaria da circa 10.000 euro che permetterà di definire l'adeguamento e la revisione del piano. È uno strumento imprescindibile per una pianificazione di potenziali investimenti sul fronte mare. Gli assessori Giuseppe Arancio e Simone Morgana e il sindaco Terenziano Di Stefano e il consigliere comunale Giuseppe Fava in questi mesi hanno voluto riprendere una procedura che sembrava confinata ai margini. Nell'arco dei prossimi 3-4 mesi potrebbero concretizzarsi gli sviluppi decisivi così che la regione chiuda definitivamente la voce del PUDM per il comune di Gela. Ad occuparsi di questa ulteriore fase tecnica sarà sempre l'architetto Giuseppe Pellitteri che era già stato incaricato per l'iter man mano diventato sempre più complesso. Nella fase finale dell'esperienza amministrativa dell'ex sindaco greco era stato l'allora assessore Antonio Pizzardi ad effettuare una verifica complessiva pure per il piano del demanio marittimo individuando una serie di ritardi e di procedure ferme. L'assessore Demma Arancio e il consigliere del suo stesso partito Fava fin dall'inizio hanno cercato di dare l'accelerata con il pieno coinvolgimento del settore urbanistica guidato all'assessore Grilino Morgana. Pare che l'architetto Pellitteri avvierà le attività di adeguamento e revisione nei prossimi giorni cercando di stringere dei tempi.